Incidente questa mattina verso le 7 lungo la circonvallazione di Padova all'incrocio tra via Manzoni e via Crescini davanti all'istituto Marconi. Uno scontro tra un autobus di linea e una moto 125. L'autobus stava svoltando a sinistra verso via Crescini mentre la motocicletta guidata da un ragazzo del 2003 proveniva da via Giordano Bruno. Subito sono stati allertati soccorsi che hanno portato in ospedale il ventenne in gravissime condizioni e in pericolo di vita. La strada è stata bloccata tra via Acqua Pendente e via Leopardi. Sul posto la polizia locale che oltre a deviare il traffico ha svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.